Musica Salve a tutti e bentornati nel nostro appuntamento del mercoledì e della domenica con l'unica serie di GTA Online con il prossimo bonus break Abbiamo un milione e due di merce qui perché c'è il bonus doppio Abbiamo due milioni e quattro Ah qua no, l'ho appena acquistata le scorte quindi andiamo via e andiamo a fare qualcosa Danno criminale Subito andiamo Allora devo chiedere subito al laser Un minuto, oh porca puttana non ce la farò mai No, non credo di farcela però ci proviamo lo stesso Beh cazzo almeno arrivare secondo guarda c'è quello che ha fatto 9200 al secondo posto Quindi andiamo subito a muoversi Ah si c'ho laser arancione perché è successa una cosa in live e attenzione facciamo danni Se volete sapere cosa succede in live seguitemi ogni sera alle 21 facciamo danni Tanti danni forza 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 Qua distruggiamo ancora, beh si fanno velocemente i danni in realtà però Mi sa che non riuscirò a vincere Allora se io distruggo il laser non funziona se è il velivolo personale vero? Vabbè dai mi accontento del secondo posto Bene 10.000 dollari dai ottimo Bene attenzione, ah ci sono due tizi qua Attenzione devo atterrare Eccomi scusate amici non volevo assolutamente disturbarvi no Sta a portavia Se lo Guardalo Sì ma se lo vuole portare a casa Guardalo che maledetto Scende Va e scappa Ah ma qua non c'ho l'armeria Rimediamo subito Attenzione Quanto costa l'armeria qui? Mi pare uno sfraccello Ah no Non costa un cazzo Vai mettila subito Beh Posso salire? Ok Allora qua direi che facciamo un Non due Tre Ok conferma Ehi ciao sono arrivato Cosa devo fare qua? Ah E' il veicolo che devo fermare Perfetto Ora lo fermiamo Vediamo un po' Ci mettiamo qui Dovremmo avere abbastanza margine Fermati Fermati Piano Ok Bene E ora lo aspettiamo Eccolo Eccolo Ah Il furgone della polizia Allora serve la minigun Fermati 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 Ah Adesso sciegi Che problema c'è Meglio così I Nasi Attenzione Cos'è l'abilità del ceo Corrompe le forze dell'ordine Eh certo Perché te conviene Così spendo di più Io chiamo l'ester Me lo fa gratuitamente Sì 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 Ma che stronzo Ma ti levi Ti levi O non si levi No eh No no Oh Maledetto Bene E gli sbirri Muti Muti devono stare Eccoci qua La Consegnazione del mercio Bene Oh Quasi un milione Possiamo fare la vendita Allora Allora Vediamo un po' Vendi tutto Eh Potrei richiedere tre veicoli Andiamo di assumere qualcuno No Riandare nel computer Brutto mongolo Vediamo se qualcuno Entra nel mio Organizzamento Dai qualcuno che si unisca Per favore Niente oh Maledetti Perché non vi unite A questa fantastica Organizzazione eh Sapete cosa dovete fare Tutti dovete andare a Fanculo Maledetti Vabbè Vendiamo da solo Vai Eccomi Attenzione Il titano Perché c'è un buzzard Lì dietro Oh per far da scorta Vabbè Non mi serve Grazie Sono abbastanza ricco Da potermelo permettere Però Prendiamoci ora L'aereo E andiamo Ma è proprio La rottura di palle Stanno tirando Il titan Se non hai un passeggero Non puoi Farti disagganciarmi Veniva il termine Dai missili a ricerca Devi volare basso Devi portarlo a 10 punti Tutti ti vengono È un dito al culo Sta missione L'unico lato positivo È che sono vicini I punti di consegna Se non altro Ma io già la vedo brutta E arriverà qualcuno Sicuro al 100% È una stronzata Arriva con un oppressor Mi distrugge un milione Di dollari di carico Ecco qua va Droppa Boh Droppa anche questo Salve signori Una consegna per voi Dalla Falapton Vaffanculix Ecco Cosa tiri fuori il cellulare Sì ma chi è Che si va a mettere vicino A una base militare No No devo seminare la poli Vabbè Chiamo Lester Dicevo ma chi è Che si va a mettere vicino A una base militare Per posizionare Un punto di consegna Ma devi essere Proprio furbissimo Amico Allora c'è una cosa Bisogna virare così Per non entrare Nello spaziere di forzancuto Ecco qui Perfetto Ce l'abbiamo fatta Ed eccoci Arrivati all'ultimo Io non ci avrei scommesso Un centesimo Invece 900.000 dollari Ottimo Beh tutto sommato Mi è andata bene Mi è capitato un solo veicolo Nessuno è venuto a rompere Quindi Meglio di così Bene E ora Tanto per cambiare Facciamo un Sperazzo di un veicolo Ehi Devo raggiungere Ranciolo sai E questo non è il veicolo Migliore per farlo Quindi Ti ammazzo Oh Bono Anche tu Maledetti Sarai ribaltato Ha lasciato una portiera Ehi amico Hai dimenticato qualcosa Tu che cazzo vuoi Cosa cazzo vuoi Stronzo Vuoi morire Mi sa proprio di sì Tu Ma che si si arrampicano Ovunque Ho capito Che c'hanno il veicolo Bastardo Eccomi Sono arrivato Cosa bisogna fare Vediamo Solo rubarla Così semplice No Dove cazzo Ah no Deve inseguire il tizio Che due palle Aspettami Fermo un attimo Ok Allora ci rubiamo Sta macchina No 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 Cosa fai Devi sparare al finestrino Perfetto E dopodiché Ma si è blocca Si è bloccato Oh Un attimo Devi rilevarmi Devi rilevarmi Così vai più veloce Certo che sta macchina Non è proprio Il sinonimo Della velocità Quindi io che gli credo Andare veloce Ehi Ciao Oh mi ha rilevato Perfetto Dai muoversi Si è un po' bloccato Dai Su 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 Dai dai Piottare Forza Ma cosa fa Beh si è schiantato Di proposito Contro la polizia Dai meglio Allora guardi Siccome è un attimino Rotta la mia macchina Se ti fermi un secondo Arrivo eh Chiamo La tempesta Dai che lo sto perdendo Lo sto perdendo tantissimo Muoviti Forza Forza No che lo perdo Dai che lo perdo No Si è Si è Dileguata Maledetta Vabbè Come consolazione Visto che abbiamo tutte le armi Sapete cosa facciamo Andiamo a comprare quelle che mancano Salve Devo fare dei bellissimi acquisti Dunque Devi darmi un bel RPG Poi un bel lancia granate Con ovviamente tutti gli innesti La mini Cancelo già Niente E qua il lancia missi Perfetto Ora abbiamo tutto Credo Aspetta Attenzione Ok Ciao amico Io non ti faccio assolutamente niente Non ti faccio niente Siamo proprio sicuro Ecco qua C'è va l'oppressor qua Quindi Spenderemo un po' di soldi Ma chi se ne frega Anzi Vediamo se riesco a fargli una sorpresa Studiata Ok Mettiamo lì E lì Vediamo se riesco a fregarlo Bene No non se Sarà il karma Che devo dire 16.000 Vabbè Vabbè Aspetta che vado Magari se la va a prendere No No le ha evitate Maledetto Cosa fai Cosa fai Muori ecco cosa fai E la cosa stavo facendo Non lo so E non lo voglio neanche sapere Bene Allora Eccoci qua E avviamo un altro recupero Bene Andiamo C'è il nostro amico marrone Utile Davvero utile Adesso ce le ho le armi Posso benissimo Ah se ne va via con l'oppressor Bene Non sta scappando Sta venendo qua Ok Bravissimo Bravissimo Ah sta qui vicino Va bene mi prendo il terror beta Allora Eccomi Vediamo un po' Cosa accade Uh attenzione Le guardie ci stanno Va bene Va bene Ora le affrontiamo Le guardie Salve Cosa Ah E qui il veicolo Ah ma devo trovare la chiave Ovviamente Va bene Andiamo a trovarla Io se riesco a fare tutto In modo furtivo Col Martè Il Martullo Volevo dire Eeeh Perfetto Un po' di Ecco Eh vabbè non importa Ah mi si No no Ma come si è accorto Sto bastardo Sto maledetto Ma che si è accorto Maledetto Oh buono No Non è tornato Vabbè cosa pretendo Vediamo un po' Cosa succede qua Che muori Ah il braccio Ho colputo No No una granata No la granata Il C4 Ok Allora tu Muori Grazie mille Bisogna risparmiare munizioni Gua Attenzione Attenzione Attento Uh Attentamenti Non attenzioni Benissimo Questo è andato E questo Cosa fa Muore anche lui Perfetto Dammi la chiave Ok Dammi l'811 E andiamocene Ancora la Ma scusa eh Ma com'è che la chiama così velocemente Questo qui l'oppressor Che c'ha C'ha I cheat Attenzione Ha il mod menu Eccolo Eccoti Ciao Ciao Che bello che sei Resta pure fermo Sì 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 Corri fores Corri Bene Andiamo E muoviamoci pure Eccala E dai Che sta arrivando Scendi 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 Oh Ok Vieni 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 No Ah bravo Sì distruggimi l'elicottero Grazie mille Gentilissimo Sei stato gentilissimo Vieni qua Ma scappi eh Scappi Hai paura Tanto dov'è Prima di Ah lì Ah Pensa di essere furbo Sì sì Ma come Ma l'ho colpito Non gli ho fatto neanche un danno Ma che è sta storia Ma che stai a dire Ma sei impazzito Ma dove cazzo va Oh puoi venire qui per favore Vieni qui per favore Ho scelto la soluzione più semplice Cosa Oggi è proprio Ma è impazzito Frasci con sto gioco oggi Ma No Va a distruggere il veicolo Non farlo No La di Maledetto Come ti sei permesso Ragazzi ma Per caso Avete visto che Il CEO Final Trade Out Ha ucciso il CEO rivale Danny Cool 05 No perché io non me ne ero accorto Allora Qua manca Solo da fare Misure di sicure Ah no Ah no Non l'ho fatto Ah tutto l'ho fatto Perfetto Allora facciamo Un percorso di pattuglia Che è facoltativa Allora Targa 02 SAB 785 Va bene Allora Vediamo Questa non è No Queste non sono Si sta girando Via 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 No no Questo non mi vede Non mi vede Non mi vede Passo di qua Uh perfetto Non mi hanno visto Che caso Questo mi vedrà Se non faccio Ok Perfetto Nessuno mi vede Ok poi passo di qua Vediamo Questa No questa non è Allora facciamo una cosa Scavalco qui Piano piano Ok Va che Perché stupidi Che non mi vedono Vabbè Ok No Ma hanno scoperto Porca puttala Oh buono Sai cosa facciamo Fermati qua Dammi il bus Bastardi Maledetti Tu muori 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 Ok Oh no Non volevo Non volevo farlo Volevo usarlo per coprirmi il bus Ma fa niente Guarda È diventata Una cosa Un'opera d'arte È un'opera d'arte Non la finiremo più sta missione Maledetti Se non vi distruggo ora Se non vi distruggo ora Maledetti Tutti morti Dovete Tutti 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 Se ne è salvato uno Iiii E adesso Cosa succede Ah è morto Perfetto Vediamo un po' Eccola Perfetto Ok apriamo il Bagagliuio Ok Ah devo scattare una foto Va benissimo La scatto subito Eccola qua Semmi negli sbirri Non penso lo farò Penso mi Ma cosa fai con la minigal C4 suicidati Semmi negli Eeeh Bene Allora Eccoci qua Venti E per favore Qualcosa di recente Oh bene dai Poteva andare meglio Ma poteva anche andare peggio Ma che fa A piedi Questi sono Ecco perché Non suonavano più buzzard Perché questi sono spawnati Ma sono a piedi Ma pensa te Bon dai Ce la possiamo fare Su E signori Qui ci sono ancora I nostri amici Ah 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 Cosa cavolo fanno qua Vabbè vai Finito Dammi i miei Due milioni Ora Uh Due milioni E mezzo Ottimo Bene ragazzi E' arrivato il momento Di fare L'acquisto di oggi Oggi Un acquisto Molto molto particolare Che devo per forza Rifare Eccola qui Eccola qui Acquista Vai Eccola qui Perfetto Modifichiamola subito Allora Armatura Certamente Ciaf E adesso Si dice Ciaf Si dice Ciaf Si dice Ciaf Ok Io ma no Ma è nata Ciaf Va a vedere Poi Fare Ok No perché c'è stata Una discussione Pazzesca con uno Nei commenti Una volta Allora No ma la mimetica Anche no Ferniciatore Cosa ci mettiamo Direi che Boh Un bel Vio Uh Viola spinnago Che non neanche esistesse Stavo nemmeno Dato la sua esistenza Perfetto Mi piace Venti No grazie E armi Vai Missili guidati Perfetto E ho ancora un milione Ottimo Bene E ora direi che ci facciamo La prima kill Ecco Bene Ah Non è nemmeno un veicolo assicurato Perfetto Ragazzi Io vi ringrazio per avermi seguito finora E noi ci rivediamo Alla prossima